Fondamentalmente è la possibilità da parte di questa regione di finanziare la street art all'interno di questo territorio attraverso tre semplici parole, riqualificare, valorizzare, diffondere, riqualificare le nostre periferie che sono non sempre belle da vedere attraverso una nuova forma d'arte immediata, veloce, economica, aperta e libera per tutti. La street art che vediamo spesso sui muri delle nostre città, troppo spesso gli si dà anche poco valore, in realtà sono opere meravigliose e di importanza anche internazionale, immaginiamo un nome su tutti, Bansky, una sua opera in questo momento è una delle più ricercate, appare all'improvviso un artista di cui non conosciamo nemmeno il nome. Valorizzare, valorizzare il nostro territorio, l'esempio di Aielli, del comune di Aielli in provincia dell'Aquila ne è un esempio, attraverso delle opere su delle palazzine, delle case che magari non avrebbero nemmeno tutto questo grande valore perché ricostruite dopo il terremoto dei primi del Novecento, quindi non un vero contesto storico di quel paese, attraverso questa idea geniale di questo paese si è riusciti a portare un numero incredibile di turisti a conoscere quel paesino, a passeggiare dentro quel paese e creare una vera economia di ristoranti, pub, ricettività, piccoli alberghi, e tutto ciò che è possibile fare all'interno di un piccolo paese che senza la street art sarebbe rimasto nell'anonimato del nostro entroterra. Questo potrebbe essere mutato all'interno della nostra regione in tanti piccoli paesi che sono meravigliosi da vedere attraverso un'idea stupenda e formidabile come quella della street art. Infine quella di diffondere. All'interno di questa norma abbiamo previsto un fondo che la regione Abruzzo stanzia per poter fare delle pubblicazioni una volta all'anno dove censire tutte queste opere e creare un vero percorso per il turista che voglia girare la nostra terra approfittando di queste grandi opere, meravigliose opere che appaiono all'interno dei nostri paesi. Quindi siamo riusciti ad approvare oggi con questa legge un'idea nuova di turismo, un'idea nuova che porterà tanti cittadini, ci immaginiamo, all'interno del nostro entroterra dove troppo spesso non dedichiamo la giusta attenzione.